Ciao amiche e ciao amici, come capire indirettamente se manchiamo all'ex? Questo video per rispondere a Fabio che mi segue su YouTube. Ora dunque, è ovvio che quando si viene lasciati, soprattutto una domanda che assilla la nostra mente è capire se manchiamo o se non manchiamo per avere possibilità di un'eventuale riconquista. Ovviamente nel momento in cui noi sapessimo che manchiamo all'ex, avremmo buone chance per attuare una tattica di riconquista. Se invece sappiamo che non gliene frega niente, allora a quel punto lì diventa tutto più difficile. Quindi è importante avere questa indicazione peraltro in diretta. Ora, dipende molto da che rapporti si è mantenuto con l'ex. Se si è mantenuto un rapporto, diciamo, cordiale, dove ancora è vivo il collegamento Facebook piuttosto che altri social network, ma quello più diffuso è Facebook, è quello che permette, diciamo, anche maggiori interazioni da questo punto di vista, è importante indirettamente magari mettere un commento o qualcosa, un post dove, diciamo, sulle relazioni d'amore che fanno giri immense e poi ritornano. Anche, ad esempio, la famosa canzone di Venditti o comunque situazioni di questo genere. A quel punto lì potrebbero capitare due cose. O un segnale molto forte, l'altra persona mette un like, diciamo così, a questa cosa e quindi praticamente ci sta dichiarando che vuole tornare, oppure non dà un segnale così forte, ma a sua volta dopo un po' di tempo, con un certo tempo di ritardo, posta qualche cosa di simile, qualcosa sulle relazioni d'amore che in qualche modo si recuperano, eccetera, gli amori che ciclicamente tornano. Questo è un altro segnale indiretto, diciamo, che ci dice che c'è un collegamento. Poi un altro segnale è quello di casualmente incontrarlo o incontrarla in situazioni, diciamo, sociali con altre persone, eccetera. Gli accadimenti non avvengono mai per caso. Se ci capita di incontrarlo, o c'è un evento sincronico che, come dire, è un segnale dell'universo che dobbiamo comunque rilacciare, che in qualche modo saremo favoriti dall'universo nel rilaccio, oppure addirittura può essere un suo tentativo deliberato di bazzicare, diciamo, in zone dove noi comunque ci siamo, o addirittura comunque informarsi. È ovvio che non è che deve capitare una volta, ma se capita più di una volta, soprattutto in momenti ravvicinati, allora è un segnale forte che è il momento di fare qualcosa. Poi ci possono anche essere altri, tantissimi segnali, eventi sincronici che capitano coincidenze significative che possono farci intuire che una connessione ancora è presente, quindi possiamo cavalcare questa. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, come Fabio, ed inoltre se questo video ti è piaciuto, fallo girare tra tutti i tuoi amici. Ciao!